Ha avuto inizio nei giorni scorsi la campagna olearia 2024 presso il frantoio Anzap e Terra Antica di Raiano, guidato dalla cooperativa di Fausto Ruscitti. Nonostante una diminuzione del prodotto del 40% rispetto allo scorso anno, la qualità dell'olio si prospetta eccellente, superiore anche alle annate precedenti. Le due cultivar rustica e gentile sono state apprezzate a livello nazionale come tra le migliori varietà di olivo. La cooperativa Anzap e Terra Antica collabora da anni con l'Università di Teramo ed altri esperti nel settore per ottenere il riconoscimento dell'unicità di questi oli. I test effettuati sui campioni di olive della Valle Peligna indicano un alto contenuto di antiossidanti come polifenoli e vitamine e una bassissima acidità, segno di un prodotto di alta qualità. Questo risultato è frutto di un nuovo approccio più consapevole e professionale degli agricoltori che oggi mettono al primo posto la bontà e la priorità dell'olio, piuttosto che la quantità. Fausto Ruscitti, responsabile della cooperativa, sottolinea l'importanza di molire le olive subito dopo la raccolta per evitare la fermentazione del prodotto e preservarne le proprietà benefiche. Consiglio ai nostri coltivatori di prenotare tempestivamente i frantoi per evitare i tempi di attesa tra la raccolta e la molitura delle olive, afferma Ruscitti. In Valle Peligna sono attivi sei frantoi, due a Raiano, tra cui quello gestito dalla cooperativa Anzap e Terra Antica, uno a Vittorrito, uno a Bugnare e due a Prezza. La campagna olearia 2024 si prospetta quindi come un'importante occasione per valorizzare l'olio di qualità prodotto in questa regione.